Ciao a tutti e benvenuti! Volevo dirvi che oggi mi troverete anche sul secondo canale. Vi parlerò ancora una volta delle cose più strane, insolite, viste, percepite e vissute dai bambini. So che la tematica vi affascina molto e questo mi fa piacere. Senza ombra di dubbio vi proporrò successivamente altri video di questo genere perché penso che possano farvi riflettere questi mini racconti molto spesso scritti anche da genitori, babysitter o comunque persone che hanno avuto a che fare con questi bambini che in un determinato momento della loro vita si sono comportati in modo molto strano. Che dire, i racconti di oggi saranno davvero super inquietanti, ne discuteremo insieme e quindi io vi aspetto sul canale. Se non siete ancora iscritti e volete farlo troverete il link giù nella info oppure nel primo commento in basso sotto questo video. Lo metterò in primo piano così non potrete sbagliare. Diffondete i miei video se vi piacciono e diffondete il link del mio secondo canale sempre e solo se vi va comunque di aiutarmi, darmi una mano a crescere anche di là. Per il momento quindi vi auguro un buon proseguimento, vi mando un bacione e se vi va io vi aspetto più tardi anche sul secondo canale. Non vi preoccupate che comunque sul primo usciranno le notizie, vi aggiornerò delle ultime cose che stanno accadendo nel mondo quindi non vi preoccupate che sarò presente anche qui. Quindi per il momento vi mando un bacione e noi ci vediamo più tardi.